che carellata buonasera stasera diciamo c'è più una cosa più in più di solito vabbè mercoledì sera e non sembra una cina si è mosso anche il gatto allora allora ho fatto la torta con il seta ce l'avevo bella fatta insomma con un po' di verdura e poi ci ho messo le zucchine e il formaggio morbido sopra e l'ho messo in forno a 180 per mezz'ora oi sono precisi stasera no perché sennò capire di bacchetta quanto ci deve stare in forno? questo è cavolfiore ci ho fatto il battuto con l'aglio e il prezzemolo e poi ci ho messo le zucchine e l'ho messo in forno questo ci potremo 40 minuti perché avanti va coperto a 180 va coperto e un po' scoperto questi sono fagiolini del pomodoro e la cipolla bene e questo lei seta un funghi ottimo e allora si mangio buon appetito ciao ciao